Ci godiamo questo momento, la vittoria è storica assolutamente, abbiamo fatto un'altra partita magistrale contro il Brescia, questa è la seconda della stagione che vinciamo contro i campioni d'Italia, quindi assolutamente motivo d'orgoglio sì, però è ancora lunga la strada per coronare il nostro sogno, quindi piedi ben plantati per terra e vediamo di andare avanti così. I momenti chiave del match disputato? Credo che sia stato un bel continuo di momenti, dalla prima azione in cui Oliva ha parato il primo rigore fino all'ultimo assalto che abbiamo fatto il gol della vittoria, anzi nonostante il loro ultimo assalto che abbiamo difeso alla grande, è stata tutta la partita, veramente un gran bel vedere. Brescia è una corazzata detentrice del titolo, per la prossima gara quali sono le cose da analizzare, magari della partita anche appena trascorsa, ripetersi, ma c'è anche il pericolo ovviamente della reazione di Brescia? È una squadra ferita, è ancora più pericolosa, la reazione sarà sicuramente vehemente, ma dobbiamo essere tranquilli, noi continuiamo ad andare sulla nostra strada senza paura di cambiarla. Abbiamo tante frecce al nostro arco, quindi non è che siamo spaventati, siamo consci del fatto che loro sicuramente sono i campioni d'Italia, sono più forti e tutto quanto, ma per adesso sul campo stiamo vincendo noi. Al di là di chi vincerà il campionato, il torneo, comunque terzo posto regular season, devo dire che è davvero una soddisfazione incredibile, già per come stanno adesso le cose. Beh, sicuramente la soddisfazione c'è, ma non siamo sazi, dobbiamo continuare a macinare gioco e a continuare a essere noi stessi.